Siamo con Davide e Sabrina al Black and White Party di Omitalia Magazine, loro sono i responsabili del salone Anvis Boutique che ha curato questa sera il trucco e i capelli delle modelle che hanno sfilato per gattinoni. Vuoi parlarci dei capelli? Certo, i capelli sono morbidi, sono eleganti, sembrano quasi naturali e sono molto eleganti come gli abiti dello stilista. E invece Davide si è occupato del trucco per le modelle, cosa hai pensato per questa serata? Il trucco rispecca un pochettino il look, è moderno ma allo stesso tempo aggressivo, quindi un dark, glossato, lucido per rendere la donna sia elegante ma strong allo stesso tempo. Per noi è stato un piacere avervi qui come amici di Omitalia Magazine, grazie per il vostro supporto e per il vostro splendido lavoro. Arrivederci!